Monaco saia, monaco scimne. Così recitava un'antica formula magica che nella provincia di Potenza alcuni esponenti del clero usavano per terrorizzare il popolo e indurlo a pagare le decime. I preti, grazie a queste parole, si racconta potessero librarsi nell'aria e comandare le nuvole, producendo uragani in grado di distruggere i raccolti. Poi i tempi sono cambiati e oggi ciò che resta di quelle secolari e variopinte pratiche magiche permane in forme diverse, solo in alcune manifestazioni arboree, come quelle del Maggio di Accettura. Particolarmente importanti però, almeno fino ai primi decenni del 1900, sono stati gli scongiuri ripetuti per contrastare le tempeste. Di questo parla diffusamente l'etnologo Ernesto De Martino nel volume Sud e Magia. I suoi resoconti si basano sui racconti fatti allo studioso da un vecchio arciprete, Don Pellettieri, e da Margherita d'Armento, una donna all'epoca dei fatti quasi centenaria. Entrambi erano originari di Vigiano. Questo paese dell'Alta Val d'Agri, in provincia di Potenza, è noto soprattutto per il centro Oli dell'Eni. In realtà la sua tradizione è molto più poetica, legata alla produzione dell'arpa e al culto della Madonna Nera, che ha qui il suo importantissimo santuario. Una volta, racconta Margherita a De Martino, una sua giovane nipote, vedova, osò rifiutare le attenzioni di un sacerdote. Il prete, roso dalla rabbia, si recò sulle sponde del fiume Agri. Tra le mani aveva un mestolo che batte più volte sulla superficie dell'acqua, increspandola. Immediatamente l'uomo si trasformò in un nembo temporalesco e in questa sua nuova forma si abbatté sul raccolto della giovane, devastandolo. La terribile vendetta si compì per alcuni anni, ma un giorno un precettore, invocando la Madonna e i Santi, riuscì a fermarlo. Solo allora la disgrazia ebbe fine.